Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'attrice, Nancy Brilli, ha fatto preoccupare tutti con la sua corsa in ospedale. Nonostante il suo malessere, ha trovato comunque le forze per postare sui social un messaggio. È stato proprio grazie a questo post che tutto il web ha appreso quanto stava accadendo alla povera Nancy. Ha esordito scrivendo Mi è presa brutta, brutta. Nancy Brilli ha documentato passo per passo le sue condizioni di salute, mostrando anche il saturimetro che indicava la sua saturazione all'84%, un livello davvero preoccupante. Subito dopo nello stesso post aggiunge Mi sento una schifezza, stanchezza mortale e tosse d'oltretomba. Il nuovo anno è cominciato nel peggiore dei modi per Nancy Brilli. Infatti, pare proprio che per lei sia un periodo sfortunato. Non solo questo malore, ma altri episodi sfortunati la stanno perseguitando e infatti spiega. Dopo la schiena rotta, la congiuntivite ha entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il covid. L'attrice si dimostra esausta e particolarmente preoccupata per il covid. Per questo motivo, ha poi deciso di far verificare le proprie condizioni di salute al pronto soccorso al Sant'Eugenio di Roma, dove è stata subito sottoposta a sette tentativi di prelievi arteriosi dolorosi e ad un attac polmonare. Per fortuna, dopo questi esami, è stata dimessa. Auguriamo a Nancy una pronta guarigione. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie a tutti.